Ma buongiorno, buongiorno, eccomi qua, eccomi qua, incredibile, come si suol dire, un giochino, io metterò questo in testa, così, tipo equilibrista, eh, così, e poi questa moneta andrà a finire qua dentro, incredibile, ci riuscirò, non ci riuscirò, non lo saprò, non lo saprò, però dopo io, se gli riuscirò, metterò a mangiare un pezzo di torrone al cioccolato con dentro le noscioline, le noscioline, molto buono, molto buono, allora ci proviamo, ci proviamo, la monettina a due euro, mettiamo questo qua, e ci proviamo, eh, vediamo se ci riuscirò o non ci riuscirò, chi lo so, chi lo so, aspettate, non è facile, non è semplice, ragazzi, vai, incredibile, non sono riuscito, riproviamo un'altra volta, si riprova, vediamo un po', vediamo, incredibile, ma vero, non ci sono riusciti, per l'ultima volta, ragazzi, ci riproverò, ok, siete pronti? Uno, due e tre, incredibile, ragazzi, e la monettina è entrata, guardate, è entrata la monettina, ma dove è finita? Eccola qui, incredibile, ragazzi, gioco riuscitissimo, riuscitissimo, vi saluto, ciao, perfettamente riuscito, ciao, ciao, buona giornata, vado. Grazie.